Salve, sono Giovanni D'Angelo, sono psichiatra e psicoterapeuta a Casagiovi, vicino Caserta. Qui nel mio centro da quasi un anno ormai abbiamo assaurato una collaborazione molto proficua con la scuola Lugia Quarta Viglia di Firenze e stiamo facendo degli incontri di costellazioni familiari. Anche oggi abbiamo avuto l'ennesimo incontro e le cose vanno sempre meglio. Abbiamo molte più prenotazioni di quelle che riusciamo poi ad accogliere qui con noi. Io sono veramente contento di questa esperienza. Dal punto di vista scientifico, dal punto di vista culturale non vi so spiegare bene che cosa succede e perché succede e come succede. Però vi posso portare la mia testimonianza di emozioni profondissime che vengono mosse da questo tipo di esperienza. Dall'emergere di ricordi ancestrali e di situazioni familiari alcaliche che influiscono sulla vita di oggi. E questo mi incentiva ad andare avanti. Tanto che con la collaborazione degli amici Giaco e Manuel stiamo pensando di fondare qui a Caserta un polo sud per la scuola UGF Quarta Via per la formazione di costellatori, per la formazione di persone che sappiano guidare le costellazioni. Manuel, voi... Grazie Giovanni, io mi chiamo Manuel Zanolini, assieme al mio collega Giacomo Pierotti coordino la scuola UGF Quarta Via. Uno dei nostri cavalli di battaglia è per l'appunto il corso di costellazioni familiari, inteso in giornate che effettuiamo in tutta l'Italia, a partire da Milano per arrivare qui fino al meridione, passando da Firenze, da Roma e effettuiamo anche il corso di costellatori, quindi formiamo le persone affinché acquisiscano le competenze necessarie per tenere giornate di costellazioni familiari di gruppo, costellazioni familiari individuali, costellazioni aziendali. È da un anno ormai che cooperiamo con Giovanni D'Angelo, siamo felicissimi di questa cooperazione, abbiamo tutte le intenzioni di portarla avanti, così come appena detto il dottore abbiamo intenzione di aprire qui in meridione una sede della scuola proprio per formare anche in questa zona d'Italia nuovi costellatori, dato che c'è molta necessità, molta richiesta e le costellazioni sono un'attività che porta in questi benefici, quindi vi aspettiamo alle prossime giornate, presto vi daremo le date di gennaio, di marzo, di maggio e dei mesi successivi a seguire e che dire Giovanni, grazie ancora per la bellissima esperienza. Grazie a voi, grazie. Grazie Giovanni, grazie.